Insomma ci sono tante donne, c'è Catherine Deneuve, Monica Guerritore, ma sono sette storie di donne diverse, diverse per cultura, per estrazione sociale, per il loro ruolo nella vita, ma il fil rouge sono appunto le tematiche che riguardano la discriminazione, la parità di genere, insomma, e anche la donna nella società contemporanea a seconda del luogo che racconta. Ne parleremo, ne parleremo.